ciao ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video oggi sono super felice perché dopo tanti tanti giorni di attesa scusate il sottofondo dei miei figli ma stanno giocando i piccolini insomma dicevo che dopo tanti giorni di attesa finalmente è arrivato il mio piano a induzione e non l'ho preso prima perché mi hanno fatto sempre spaventare perché mi dicevano sempre che scattavo il contatore non potevi accendere ne più di due perché sennò scattava devi aumentare la corrente non puoi accendere la lavatrice poi si rompe subito se cade l'acqua sinceramente io non noto nulla di tutto ciò anche perché il contatore non mi è scattato è stato un po complicato nel montaggio perché il mio piano realmente non era proprio 90 ma bensì 87 centimetri quindi il piano induzione che noi abbiamo preso era 90 e quindi abbiamo dovuto dividere un centimetro e mezzo per parte vabbè comunque vedete tutto nel video e niente vi saluto già da adesso se potete contattarmi direttamente anche su instagram oppure direttamente qui nei commentini che io vi rispondo bene vi lascio al mio video e niente vi do un bacio già da adesso chiudo e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 Oh, could this be reality? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.